Dove vanno i figli di Israele che sono usciti dall'Egitto e dove va l'umanità? Vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati, dice il libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato in questa veglia. Camminano e camminano, si stancano e si ingegnano per sopravvivere ma non vanno da nessuna parte, vanno errando nella regione. Sono usciti dalla terra d'Egitto a mano alzata, fieri di essere liberati dalla schiavitù di Faraone, ma ci sono momenti in cui la libertà è diventata più insopportabile della schiavitù. E si continua a scrivere la storia di uomini e donne di ogni tempo, chiamati da una promessa, si sono smarriti in un deserto in cui si sentono abbandonati, dove non c'è più alcun segno che indichi la direzione verso la terra promessa. Ma ci si può veramente fidare delle promesse di Dio? Non sono forse più rassicuranti gli idoli costruiti dalle nostre stesse mani. Perciò provano risentimento verso Mosè e verso gli inviati e gli angeli di Dio che si sono fatti voce delle promesse di Dio. Perciò hanno crocifisso Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Perché il regno che Gesù annunciava non corrispondeva in nulla al trionfo mondano che si aspettavano. Siamo bloccati nel deserto, il popolo non sa dove andare e Faraone, il nemico del bene, già pregusta la vendetta che riporta gli schiavi fuggiti in schiavitù. Ma noi celebriamo questa sera il grande terremoto che ha scosso tutta la terra, laddove la vita sembra indiottita dalla morte, laddove la promessa alla quale Abramo si è affidato sembra contraddetta dalla richiesta del sacrificio del figlio Isacco, laddove il nemico invincibile incalza alle spalle e ogni via di fuga è impedita dalle acque del mare, là Dio apre la strada. Il gran terremoto lascia come morte le persone messe a custodire il morto. L'angelo di luce vince le tenebre spaventose, la forza divina rotola la pietra del sepolcro e ne fa una base per il suo trono. È la Pasqua del Signore, la gloria di Dio che passa e apre il passaggio alla vita. Tutta la grande veglia è la celebrazione del passare, della Pasqua, il passare di Dio che apre la via impensabile verso la terra promessa. Celebriamo perciò la Pasqua accogliendo l'annuncio che ci chiama a compiere il nostro passaggio. I catecumeni compiono il grande definitivo passaggio qui, insieme con noi e in altre chiese della nostra terra. I catecumeni nell'acqua del battesimo compiono quel segno del passaggio del Mar Rosso cantato da Mosè e dagli israeliti che avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare. E perciò i catecumeni, insieme con tutta la chiesa, rinnovano il cantico di Mosè. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Ciascuno di questi catecumeni, come mi hanno raccontato qualche giorno fa, ciascuno di loro compie questa notte l'iniziazione cristiana. Ciascuno ha la sua storia perché non sono infanti, ma uomini e donne che con libertà e consapevolezza interpretano così la loro storia, come un cammino che entra in una svolta decisiva. Hanno una storia da raccontare, talora drammatica come un esodo, talora entusiasmante come la scoperta di un amore, talora rassicurante come la promessa di appartenere al popolo santo di Dio. La gioia dei catecumeni è diventata la gioia di coloro che li hanno accompagnati e la gioia delle comunità cristiane in cui sono stati accolti. Dobbiamo chiedervi, carissimi fratelli e sorelle, che voi siate come angeli, che con la veste bianca come neve possiate rinnovare la gioia del popolo cristiano. Il battesimo e l'introduzione ai sacramenti della vita cristiana siano per voi gioia, siano per voi missione per diffondere la gioia. La vostra vita cambia non per un vestito che si indossa, ma per un'appartenenza che determina il tempo, lo spazio, le scelte. Non tornate alla vita di prima. Siate uomini e donne rinnovati dalla grazia. Per voi è il grande passaggio. Per voi è Pasqua. E noi tutti, cristiani peccatori, compiamo il passaggio dalla condizione di peccato alla gioia del perdono e della riconciliazione, secondo la parola del profeta. Su, venite, discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Celebriamo la Pasqua, il passaggio del Signore, la sua glorificazione. Noi celebriamo la Pasqua non perché siamo perfetti, ma perché abbiamo bisogno del perdono e della riconciliazione. E dunque lasciatevi riconciliare con Dio. Celebriamo la Pasqua, il passaggio del Signore, la sua risurrezione. Non perché siamo contenti di noi stessi e viviamo nella sicurezza adeguata per far festa, ma perché siamo desiderosi di condividere l'esperienza di Maria di Magdala e dell'altra Maria, che, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Annunciamo la gioia di cui non siamo padroni, ma che riceviamo in dono. Annunciamo la promessa che abbiamo ricevuto dall'ascolto del Signore. Non torniamo alla vita di prima. Questa Pasqua sia un passaggio per ciascuno di noi, come i catecumeni si introducono con il battesimo nella comunità cristiana. Così noi tutti, battezzati da tempo, decidiamoci a trasformare la nostra vita. Non torniamo a casa stasera come siamo usciti di casa. Decidiamoci a presentarci al Signore, a chiedere perdono, a cominciare una vita rinnovata, a rinnovare la grazia del nostro battesimo. E l'umanità, l'umanità intera, sia pronta, sia desiderosa di compiere il grande passaggio che è il dono di Pasqua, il passaggio del Signore verso la pace. Secondo l'augurio di Paolo ai Romani, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E vorremmo che questo messaggio di pace raggiunga tutti i posti della terra, tutti i paesi, soprattutto là dove sono in atto queste guerre dissennate che distruggono l'umanità e l'ambiente in cui viviamo. Pace ci sia nei popoli. Noi crediamo che questa Pasqua, il passaggio del Signore, segni un passaggio verso un'umanità riconciliata. Pasqua, il grande passaggio che apre finalmente una strada al popolo che sembra girovagare nella regione bloccato dal deserto. Noi riceviamo grazia, il grande passaggio dei Catecumeni per l'appartenenza gioiosa e grata alla Chiesa, il grande passaggio di tutti i fedeli dalla mediocrità alla santità, dal peccato alla riconciliazione, il passaggio alla pace di tutti i popoli nel nome dell'unica vocazione e dell'unico dono offerto da Dio.